La vocazione manifatturiera di Arezzo risiede nelle radici stesse della città. Il settore orafo e della gioielleria, in particolar modo, l'hanno resa celebre in tutta Italia. Ma è ormai da molto tempo che si discute su come rendere proficuo l'altro fiore all'occhiello del nostro territorio, la cultura. Arezzo città d'arte dunque? Perché no? La sua storia ne porta già esempi importanti, ma passare dalle parole ai fatti è tutt'altro che semplice. Difficile fare rete tra le istituzioni politiche, economiche e culturali della città, anche se l'obiettivo è comune, portare turisti dentro le mura medicee. Un obiettivo va riconosciuto, su cui negli ultimi anni si è impegnata fortemente l'amministrazione comunale guidata da Giuseppe Fanfani. Noi abbiamo cominciato tanti anni fa ad abbellire la città, a rifare le nostre piazze, a rifare il centro storico, a creare le condizioni perché il Arezzo fosse visto da coloro che vi venivano anche con occhio turistico, mentre in passato la prepotente espansione industriale aveva fatto considerare il turismo come un'attività imprenditoriale ed economica di valore secondario. Oggi l'abbiamo riscoperta e abbiamo creato le condizioni perché la nostra città venga maggiormente apprezzata. Ora cominciano a vedersene i risultati perché quest'anno, in controtendenza rispetto al restante territorio, abbiamo avuto un incremento del 17%. Tra le iniziative chiave, impossibile non citare l'edizione zero della biennale artistica Icastica, che ha scatenato amore ed odio in città, ma che, a detta del primo cittadino, ha portato i suoi frutti. Certamente ha contribuito anche Icastica, della quale si potrà dire tutto il male possibile, ma non che non abbia portato Arezzo all'attenzione internazionale. L'anno prossimo probabilmente questo trend continuerà, creando le condizioni perché Arezzo goda di un'apprezzabilità sempre maggiore anche sotto il profilo culturale. Ma i traguardi più attesi sono quelli che Fanfani mette in calendario per questo nuovo anno, a partire dalla conclusione dei lavori al Teatro Petrarca e al piano terra del Palazzo della Fraternita dei Laici, in Piazza Grande. Per vedere tornare la Fortezza Medicia all'antico splendore, invece, bisognerà attendere ancora. La conclusione dei lavori è prevista, infatti, tra la fine del 2014 e gli inizi del 2015.